L'antropologia, o più propriamente l'antropologia culturale, è quella scienza che studia le manifestazioni culturali dei gruppi umani nel tempo e nello spazio. Essa compara stili di vita, sistemi di vita differenti, e un buon antropologo deve comunque abbandonare un atteggiamento di tipo etnocentrico, non deve considerare la propria cultura superiore a quella degli altri, deve adottare il relativismo e deve essere consapevole che ogni manifestazione culturale può essere compresa nel suo contesto. L'antropologia si sviluppa a partire dal Seicento e trova il suo sviluppo nell'illuminismo nel Settecento e anche nell'Ottocento, quando si avverte un interesse per i popoli lontani dalla tradizione occidentale. La seconda metà dell'Ottocento diviene una vera e propria scienza. La scoperta dell'America e il colonialismo stimolano l'interesse per le culture tribali. Nel Novecento, i cambiamenti culturali avvenuti nel Novecento, accendono l'interesse per le culture urbane contemporanee.